Il nostro organismo è composto da diversi tipi di cellule, ognuna con proprie caratteristiche e specifiche funzioni. Ad esempio, le cellule nervose si sono specializzate per condurre gli impulsi elettrici, quelle muscolari per contrarsi, i globuli rossi per trasportare ossigeno e anidride carbonica, le cellule della pelle per rivestire e proteggere gli strati di tessuto più interni. Tutte queste cellule sono differenziate, cioè non si dividono più e svolgono una funzione precisa. Hanno una durata di vita limitata, ad esempio 30 giorni le cellule della pelle e 3 mesi i globuli rossi. Il nostro organismo possiede anche un tipo speciale di cellule, le cellule staminali, che hanno due caratteristiche uniche. Sono in grado di dare origine dividendosi ad altre cellule staminali in un processo chiamato di autorinnovamento, e sono capaci di generare i progenitori, cioè le cellule che danno origine a tutta la varietà di tipi cellulari di cui il nostro organismo è composto, in un processo chiamato differenziamento. Esistono diversi tipi di cellule staminali. Le cellule staminali embrionali si trovano solo nella blastocisti, uno stadio ben preciso nello sviluppo dell'embrione. La blastocisti è formata da uno strato esterno di cellule e da una massa cellulare interna. Le cellule della massa cellulare interna sono le staminali. Sono pluripotenti. Se prelevate e messe a crescere in piastra, possono generare qualsiasi cellula del nostro organismo, dalle cellule intestinali a quelle della pelle, alle fibre muscolari. Le cellule staminali dei tessuti sono capaci di generare solo le cellule del tessuto in cui si trovano. Ad esempio, le cellule staminali neuronali possono formare neuroni e cellule della glia, come oligodendrociti e astrociti, ma non cellule muscolari. Sono cioè multipotenti. Possono dare origine a un numero limitato di tipi cellulari. Le staminali adulte costituiscono una riserva di cellule per l'organismo e sono importanti per la medicina rigenerativa. Ad esempio, sono utilizzate nei trapianti di pelle e nei trapianti di cornea. Per questo motivo, le cellule staminali rappresentano una promettente frontiera della ricerca biomedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.